Salve a tutti fratelli e sorelle e benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 1 maggio 2019 Dio vi benedica e sia lodato Gesù Cristo Come potete vedere dalla miniatura e dalla nostra piccola locandina toglieranno la Santa Eucaristia E' una frase che abbiamo preso da questi nuovi messaggi che oggi vi faremo vedere Ovviamente come attuali metteremo nel box informazioni tutte le varie link per andare poi a leggere in maniera completa Andremo a vedere alcuni messaggi che parlano proprio di questo e non solo Ma questo è quello che ci ha colpito, proprio toglieranno la Santa Eucaristia In molti messaggi da tutte le parti del mondo stanno dicendo a tamburo battente che la Santa Eucaristia a breve ovviamente con i tempi di Dio la toglieranno Cioè faranno tutt'altro E le profezie queste dicevano e questo si compiranno Se viene tutto da Dio, tutto si completa come si vuol dire e si realizza Andiamo al primo messaggio di oggi Andiamo a vedere messaggi di Carbonia, il colle del buon pastore Ce ne sono mi pare tre, se non erro Iniziamo da quello più lontano fino ad arrivare a quello più recente E allora un attimo che riprendiamo Eccolo qui, quello più recente, quello più lontano scusate Eccolo qua Eccolo qui 20 aprile 2019 Messaggi di Carbonia Dice Toglieranno presto le Eucaristie Però qui iniziamo con questo titolo della Diciamo del nostro, miniatura della nostra locandina Toglieranno la Santa Eucaristia Dice questo Il mondo è per essere visitato dall'Altissimo Presto avrete una grande sorpresa Ecco, il cielo si aprirà e discenderà il figlio dell'uomo, il santo, il Dio dell'infinito amore La terra presto sussulterà Il demonio farà il suo ingresso Quale anticristo Vedrete il suo impero, la sua dimensione Il suo volere essere più grande di me Toglieranno presto la Santa Eucaristia I nemici entreranno come padroni in Vaticano Ma non avranno vittoria Il vittorioso re del re è ormai sulla discesa Alla sua discesa sulla terra E il suo trionfo sarà grande Tutti lo conosceranno Vedranno il suo volto E saranno da lui giudicati Preparate i vostri cuori Mettete in voi il sigilo dell'amore E avanzate con l'arma del Santo Rosario Pregate per sconveggere Satana La luna annuncia cose nefaste E' tempo dell'inizio, della fine Cioè, della fine dei tempi Preparate le vostre case con i sacramentali a portata di mano Pregate, figlioli, pregate All'improvviso la notte diverrà buia come mai l'avete vista Sentirete nel vostro cuore angoscia e dolore Ma nessun male tocca ai figli di Dio Maria Santissima è la discesa del suo cielo Il suo rifugio è pronto Ella abiterà con tutti i suoi figli I nuovi apostoli di Maria L'esercito da lei preparato è pronto I suoi figli combatteranno al suo fianco Ella sarà vittoriosa contro Satana Il suo mando abbraccerà tutti i suoi figli E li porterà vittoriosi A colui che attende riaverle in sé La partita è la sua fine Il cielo sta per entrare in battaglia L'esercito celeste è già schierato per la lotta Tutto è imminente Vedete come sono molto forti questi messaggi Che non arrivano solo da Carbonia Ma anche arrivano da altre parti del mondo Continuiamo con i messaggi di Carbonia Ce ne sono due del 24 di aprile del 2019 Sempre in questa località Un primo e un secondo Iniziamo con il primo E dice Amati miei State in me State in attesa di me Non abbiate paura di affrontare la battaglia contro Satana Chiedetemi l'aiuto Io sarò sempre al vostro fianco Per sollevarvi da ogni situazione difficile Credete fermamente in me Vivete il mio Vangelo Custoditevi in me Cioè bisogna viverlo il Vangelo Questa è una cosa fondamentale La mia casa è ormai fredda Il gelo l'avvolge I miei consagrati non rispondono più alla mia voce Vivono sfrenatamente la vita lussuriosa Hanno calpestato la mia parola L'hanno distorta Hanno oscurato la verità Ma Dio è Egli è E per amore dei suoi figli Metterà fine alla malvagità di Satana E ridonerà splendore alla sua casa I tamburi rullano a morte Ma gli uomini non vogliono capire Tutto è ormai sotto il dominio di Satana Che ha preso il sovravvento su questa umanità La terra è stata maledetta da lui Ogni essere umano percepisce il suo influsso di male Figli miei Io oggi discendo dal cielo Per visitare tutti coloro che urlano giustizia Che implorano la mia misericordia Vengo a far nuove tutte le cose Vengo a far grande pulizia dal male E dice la Vergine Maria Quella era Gesù che parlava in questo caso La Vergine Maria dice Soldati di Maria Mi esercita a suo dato Preparati perché io La Vergine Santissima Vengo a prendervi per mano Per portarvi alla battaglia finale contro Satana Con il potere dello Spirito Santo Entrerò all'improvviso Squarcerò l'ira di Satana E abbraccerò al mio cuore immacolato Figli miei Segnatevi sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo E siate pronti perché quando o meno ve l'aspettate Ve l'aspetterete ovviamente Il cielo ottonerà l'ira di Dio La sua giustizia è iniziata Come ben sappiamo Il suo dolore è infinito per la perdita dei suoi figli Ora segnerà la sua giustizia su questa umanità perversa Prima di amore Destinata alla morte E a causa della sua disobbedienza A lui il Dio creatore E per essere chiusa E per essere chiusa questa sora adamitica Il Cristo è risorto per tutti i suoi figli E viene a prenderli in sé Un fulmine arriverà dal cielo Per spezzare le catene del demonio su questa umanità Avrete la possibilità di scegliere se stare con Gesù o con Satana Avete liber arbitrio Sappiate di sceglierne Fate la scelta giusta E adesso andiamo a leggere il bis L'altro messaggio dello stesso giorno Soffierà forte il vento E la pioggia verrà giù come grandina a colpire la terra Questa umanità è infedele al suo Dio creatore Si è venduta l'anima al nemico Tutto per un misero pezzo d'argento Come Giuda Possiamo dire, no? Il Getsemani è nella mia chiesa terrena La passione sarà grande per chi mi ha tradito La risurrezione sarà per coloro che con tanto amore hanno dannato se stessi Per realizzare la mia opera, il mio disegno salvifico Quando la luna non donerà più la sua luce Quando il buio sarà completo sulla terra Quando nel vostro cuore si avvertirà l'agonia di un condannato a morte Ecco che si sarà completando e compiendo la profezia Ecco il tempo è giunto per questo intervento divino L'uomo inalzato se stesso mettendo in secondo piano il suo Dio Ha preso potere sulle cose del mondo Ha rinnegato la verità Che è Gesù Gesù è morto sulla croce È stato crocifisso dall'uomo iniquo Colui che si è inalzato per essere divino più di me Non avrà la vita in me Questi cadrà nella Genna E sentirà in sé il dolore eterno del tradimento Arrivano gli attimi di grande dolore Per chi non avrà ascoltato la mia voce Per chi avrà imperato nella sua superbia Attenti a non usare contro di me Io sono colui che sono Senza di me nulla potete Nulla siete Siete solo polvere Polvere ritornerete Stanno per venire le nubi Giù le nubi Il cielo sta per tonare con potenza La voce di Dio sarà prorombente E sarà vita o morte per gli uomini La vittoria sarà grande contro Satana I miei figli saranno vittoriosi Nello stesso istante Saranno parte di me Perché io infonderò loro lo Spirito Santo Vedete come i messaggi Come abbiamo letto anche ieri I messaggi sono molto forti Perché tutto è nell'aria Tutto nell'ora di compiersi ovviamente Tutto ciò E diventa sempre più forte Questi messaggi Proprio perché le situazioni Si stanno sempre di più Conturbando Diciamo E Peggiorando Ultimo messaggio del giorno È Robert Brouser Canadese E dice Del 26 aprile 2019 Dice questo Sentite bene Ora tutto andrà veloce Cioè il tempo sta scorrendo velocemente Questo metto come inciso Fateci caso che Da quando è stato eletto Papa Francesco Quindi dalle dimissioni Papa Benedetta ad oggi Il tempo è schizzato veramente In una cosa incredibile Cioè è volato il tempo Quindi ora Tutto andrà veloce Molti non saranno in grado Di trovare la via della verità Se non pregano La preghiera rimane l'unica strada Per trovare la pace Tanti non si rendono conto Di quanto il maligno Li stia imprigiorando Dovrete passare attraverso Tempi più difficili Perché gli eventi precipiteranno E tanti saranno disperati Per non aver pregato Molti non troveranno più La loro sicurezza materiale I disastri si succederanno L'uno dopo l'altro Senza tregua Il mondo sarà scosso Dai grandi leader Per soddisfare il sogno Del demonio Di Satana Cioè di regnare sui miei figli E distruggere tutto ciò Che Dio ha creato In particolare La Santa Famiglia Ovviamente Iniziate un po' La famiglia E abbiamo visto Del congresso di Verona Quello che è accaduto Figuriamoci Chi difende la famiglia Come viene visto Ovviamente Anche la famiglia Viene come il parafulmine Di tutto ciò Ma tanto è vero Che Vi faccio questo piccolo inciso La Lucia di Fatima Disse Che La Vergine Maria Gli disse a lei Che Uno dei segni Degli ultimi tempi È proprio la distruzione Della famiglia E ci siamo Cari fratelli e sorelli Ci siamo proprio dentro Ma contro ogni previsione Ristabilirò Il regno di mio figlio E con il potere Che Dio Padre Mi ha dato E stenderò Il mio manto Di purezza Su tutti coloro Che accetteranno Di credere Che mio figlio Gli ha riscattati Con la sua morte Già ci sono i segni Per prepararvi all'evento Il ritorno Di mio figlio Quindi vedete Come sono forti E sempre più Non solo forti Ma fanno capire La gravità Del momento In cui stiamo vivendo Quindi fratelli e sorelli Preghiamo per la Santa Chiesa Preghiamo per i pontefici Preghiamo per i sacerdoti Per i cardinali Preghiamo 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 E per tutti noi Proprio perché Ci si converta Oggi al Signore Non domani Ma oggi Perché domani Potrebbe essere di nuovo Come vi dicevo Nei giorni scorsi Troppo tardi Fratelli e sorelle Io vi auguro Una buona serata Dio vi benedica Sia lodato Nostro Signore Gesù Cristo Se volete Se potete Iscrivetevi A questo nostro Piccolo canale Con la campanella Ovviamente Così sarete Allertati Dai nostri Nuovi messaggi Video O altre Live Che faremo E poi Vi diremo Se oggi Questa sera O quest'oggi Nel pomeriggio Facciamo una live Ma ve lo indicheremo Ovviamente Con le nostre Piccoli messaggini Se Dio vorrà E sia lodato Gesù Cristo Ave Maria Dio vi benedica Pregate 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 E difendiamo La verità Di nostro Signore Gesù Cristo Dio vi benedica E alla prossima puntata E la prossima puntata Grazie.